oggi prepariamo pasta al forno buonissima e croccantissima seguite insieme a me la ricetta vi ricordo inoltre se non avete già fatto di iscrivervi al mio canale attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e mettere il mi piace per questa ricetta avremo bisogno di 500 grammi di pasta il formato ideale e tortiglioni o mezza manica 400 grammi di mozzarella a pasta dura due uova sode 35 grammi di parmigiano reggiano grattugiato e ragù in questo caso io l'ho preparato il giorno il giorno precedente e in ogni caso le dosi sono 150 grammi di carne macinata possibilmente di bovino 750 grammi di passata di pomodoro prima cosa che andremo a fare è cuocere la pasta molto al dente quindi non dobbiamo rispettare i tempi di cottura riportati sulla confezione ma andremo a scolare la pasta circa 3 4 minuti prima e dei tempi di cottura indicati sulla confezione nel frattempo che la pasta è in cottura tagliamo a striscioline le uova sode ci muoniamo di un apposito attrezzo per tagliare le uova questo lo potete facilmente reperire nei negozi casalinghi o anche nei negozi cinesi uniamo l'uovo ecco qua come potete vedere si sono formate tante striscioline perfetto andremo a disporre perfetto ecco i nostri uovetti tagliati a fettino procediamo col taglio della mozzarella ecco i nostri uovetti tagliati a fettino procediamo col taglio della mozzarella allora i pezzi devono essere grossolani non dovete fare dei pezzettini troppo piccolini perché comunque sia deve mantenere bene la cottura procediamo col resto della mozzarella scollata la pasta al dente la sistemiamo all'interno di due pirofile siamo pronti per il condimento allora per quanto riguarda alla pasta al forno molti utilizzano sia il ragù sia le polpettine quindi a vostro gusto a vostra scelta potete preparare sia il ragù e a parte potete preparare le polpettine oppure potete ometterle come in questo caso io non le ho preparate ma condirò la pasta soltanto col ragù formaggio e mozzarella il primo è pronto procediamo anche con la seconda pirofila una volta completati i piatti andremo ad inserire gli ultimi ingredienti aggiungiamo le uova aggiungiamo la mozzarella per completare l'ultimo ingrediente in modo tale che si crei una bella crosticina croccante aggiungiamo del parmigiano grattugiato a questo punto siamo pronti per andare in forno 180 gradi per 25 30 minuti controlliamo la cottura gli ultimi 5 minuti in modalità grill ecco qui la nostra bella pasta al forno appena sfornata bella buona e croccante una ricetta assolutamente da provare potete vedere l'interno è bello morbido e ha mantenuto una giusta consistenza mentre l'esterno e si è creata una dorata crosticina bella e croccante